Il Presidente del Comitè Olimpico Nacional Timor-Leste, Francisco Calbari Lai, è un convite speciale, il Presidente dell'Associazione Futebol Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani, il Presidente del Comitè Olimpico Qatar, Sheikh Joan Bin Hamad Al Thani, il Presidente del Comitè Olimpico Nacional Timor-Leste, abbiamo apprezzato la preparazione di Qatar al momento di Coppa Mondiale di una scena di fronte di una scena di Syriacela. Durante il primo Qatar, Francisco Calbari Lai, il Presidente del Comitè Olimpico, Gianni Infantino, il Presidente del Comitè Olimpico, Sheikh Salman Bin Ibrahim Al Thani. Calbari Lai, il Presidente del Comitè Olimpico, Gmin